sul mare lucica di silvano daffiano lido di camaiore febbraio 2021 foto video audio di walter giusti il tenore di fiano l'oppedia mi canterà ma le luci qua l'astro d'argento l'acide l'onda sospira il vento venite all'agile e marchetta mia bravo luciano mi è piaciuto questo lì l'ha fatta bene grazie arrivederci luciano saluta parenti e amici tutti no daffiano o l'oppedia vai luciano saluto le mie cugine americane maria e tina poi anche i miei cucini bravi ragazzi che stanno tutti tanti bacioni e abbracci dal vostro cugino luciano e dove si va a mangiare noi no da new york si deve andare da mamma leona no mamma leone si mangia bene si spende un fottio 140 dollari vuole a pezzone è nulla dai allora salutato signore e signori arrivederci a presto giusti walter grazie a tutti